Epica Absolute Beach, beach leasuring in tre pezzi, con struttura del fusto conica, è una canna che si presenta molto ma molto elastica, abbiamo anche la 450, infatti questa che vi sto facendo vedere è la 450 120 grammi e la canna come tutta la serie Epica è molto reattiva e si presenta con delle performance davvero ottime di lancio direi. Abbiamo l'impugnatura in shrink tube, la placca in graffite e il blank che è costruito in carbonio CX1, abbinato ad un'anellatura del tipo KV con ponte obliquo, acciaio e trattamento antisalsedine con pietra in sink. Una bella struttura lunga con tutta la vetta, ovviamente in questo caso stiamo parlando di vettino unico, verniciatura in bianco fosforescente e una vetta veramente molto ma molto sensibile, che sicuramente per merito anche della mancanza di qualsiasi tipo di spina, come possiamo vedere, sicuramente riesce ad adattarsi alle molteplici situazioni di mare. È una canna che va bene un po' per tutto, anche pesca con i pasturatori, anche non troppo pesanti e perciò è una beach veramente a tutto campo. Direi ciliegina sulla torta il prezzo perché qui ci si colloca comunque su una fascia di prezzo media. Grazie a tutti.